Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, dunque Juventus batte Aurora Pro Patria 2-0 ovviamente parliamo di Serie C come avete praticamente intuito insomma, punti importanti, punti importanti è stato ricordato ai marcatori, tutti e due nella ripresa, Toure e Matteo Spereira Matteo Spereira, dunque, tre punti importanti perché come ho detto sempre questa squadra qua deve puntare tranquillamente a cercare di salvarsi non bisogna farsi illusioni, poi se sarà di più va bene però questa squadra deve puntare a salvarsi perché è una squadra giovane, deve fare esperienza eccetera eccetera eccetera, è una squadra che non si conoscevano prima di questa partita in molti, cioè prima di queste partite, questo avvio di stagione quindi è normale che sia una squadra che prima di tutto si debba formare letteralmente detto questo la vittoria di oggi è importante proprio perché la Aurora Pro Patria è una squadra che ha le stesse ambizioni della Juve più o meno quindi era una partita tra due squadre di quel livello tra l'altro, consideratemi la battuta la Juventus è il campione d'Italia la Pro Patria ha vinto l'unico scudetto per prime squadre oltre al campionato professionistico e quello della Serie A cioè quello della Serie D, il campionato italiano di lettanti quindi insomma era una vera supercoppa italiana, si poteva dire beh a parte sta boiata comunque comunque la Pro Patria è stata messa secondo me bene in campo ha fatto un'ottima partita a mio avviso difensiva, primo tempo non mi è piaciuto l'atteggiamento della Juve un atteggiamento molto 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 passivo molto molto molle e questi ragazzi pian piano si dovranno abituare alla categoria perché è una categoria dove non puoi fare tocchettini, tocchettoni leziosità, qua devi randellare nel secondo tempo l'han fatto e credo che la fotografia della differenza tra l'altro e il secondo tempo sia proprio Matteo Sperera che nel primo tempo è stato quasi fastidioso da vedere nel senso che sembrava volesse giochicchiare troppo nel secondo tempo è stato molto fermo, molto statico nel secondo tempo appena si è mosso anche lui tutta la squadra si è mossa nel complesso meglio Del Favero che ha fatto un paratone enorme sul primo sull'1-0 dopo che era stato annullato giustamente giustamente un gol alla Pro Patria e paratone però su quell'azione lì e poi dopo è arrivato al raddoppio di Matteo Sperera con la papera del portiere della Pro Patria il primo gol ricordiamo è stato assiato da Touré che aveva fatto una bella azione Touré che poi ha dovuto uscire perché si è procurato un taglio sulla Tempia tra la Tempia e il Sopracciglio insomma beh ragazzi sono soddisfatto una vittoria pesante per la classifica una vittoria che fa morale una Juve che sta cominciando ad assestare ad assestarsi nella zona metà classifica secondo me più stai verso la metà alta della classifica meglio è proprio perché dicevamo già l'altra volta che così è facilissimo rientrare nella zona pericolosa dove rischi poi lì veramente di entrare a fare i play out poi lì si giochi tutto su una partita ed è sempre meglio evitare quindi bene la Juve che batte la Pro Patria 2-0 al Mocca Gatta di Alessandria le reti di Touré e Matteo Sperera a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video ciao 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 ciao